Ascolti e share di martedì 14 dicembre 2021. Su Rai 1, il film sabato, domenica e lunedì raccoglie uno share tiepido pari al 15,4%. Dato simile alla proposta di Canale 5, 10 giorni con Babbo Natale, che fa registrare il 14,3%. Le due reti ammiraglie senza fiction e programmi di punta hanno stimolato l'aumento degli ascolti delle restanti reti. Su Rai 2, il collegio tocca il 6%, carta bianca di Bianca Berlinguare su Rai 3, il 7,6%. Giovanni Floris, con di martedì sulla 7, raggiunge il 6,9%. Italia 1, con il match di Coppa Italia Genoa-Salernitana, resta inchiodato al 4%. Fa peggio Rete 4 con il film La The Father fermo al 3,7%. Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di ieri. Rai 1, il film Sabato, domenica e lunedì ha raccolto 3 milioni e 19 mila spettatori pari a uno share del 15,4%. Rai 2, il collegio ha interessato 1 milione e 71 mila spettatori, 6%. Rai 3, carta bianca ha catturato l'attenzione di 1 milione e 412 mila spettatori, 7,6%. Rete 4, il film La The Father ha è stato visto da 801 mila spettatori, 3,7%. Canale 5, il film Dieci giorni con Babbo Natale ha convinto 2 milioni e 830 mila spettatori, 14,3%. Italia 1, Coppa Italia Genoa vs Salernitana ha conquistato 900 mila spettatori, 4%. La 7, di martedì ha incollato innanzi al teleschermo 1 milione e 335 mila spettatori, 6,9%. TV8, Karate Kid, la leggenda continua ha raccolto 388 mila spettatori, 2%. 9, Shooter ha intercettato 470 mila spettatori, 2,4%.